Ok, allora, come dicevo prima di attivare la gestazione, prima di cedervi la parola per le vostre solite domande, vorrei spendere due parole sull'organizzazione dell'esame, che è una cosa che sta cominciando a preoccuparci tutti. Io ho già visto delle potenziali date che stanno circolando tra i docenti, credo che dovranno ancora esserci qualche piccola modifica perché ho notato le sovrapposizioni, però da quanto ho capito intorno al 10-15 maggio dovrebbero essere pubblicate sul portale le date di tutti gli esami della sessione estiva, quindi giugno-luglio e della sessione autunnale di settembre. Per quanto ci è dato di sapere, tutti gli esami, sicuramente la sessione estiva, saranno organizzati tutti in modalità online. E allora per questo noi abbiamo già cominciato a provare a redigere un regolamento dell'esame che vorrei leggere insieme, quindi spendo 5 minuti o 10 a raccontarvi questo, che sicuramente, diciamo così, ci permette anche un po' di essere forse più tranquilli, speriamo, nella modalità di preparazione. Ok? Allora adesso condivido lo schermo e leggiamo insieme questo che abbiamo scritto. Tenete presente che è una bozza su cui abbiamo lavorato negli ultimi giorni, quindi può darsi che ci sia sicuramente qualche cosa ancora da affinare, da rivedere e via via lo aggiustiamo, no? Quindi quando poi sarà definitivo lo pubblichiamo ufficialmente sul portale, ma almeno voi, diciamo, sapete con quasi due mesi di anticipo, diciamo così, come ci organizziamo. Allora, vediamo di prendere questo e condividerlo. Ecco qua, vado a ripescare come al solito la chat, scusate ma il zoom è tanto carino, ma quando cambi i contenuti condivisi devi rimetterti a posto tutto. Allora, ok. Dicevamo. Allora, l'idea è questa. L'esame tecnico di programmazione si svolgerà in modalità molto simili alla forma tradizionalmente svolta in laboratorio, con l'ausilio dello strumento di videosorveglianza. Quindi l'idea è che, così come in laboratorio, noi vi avremmo dato da svolgere un progetto nelle due ore e voi avreste potuto consultare tutti i materiali e, diciamo, anche tutte le risorse online, la stessa cosa cerchiamo di farla con voi, ovviamente, a casa. Quindi il contenuto del testo-esame sarà, come al solito, un esercizio di programmazione, quindi non cambiamo nulla, composto di due domande. La prima, obbligatoria per la sufficienza, e quindi normalmente dà un voto che è compreso tra il 18 e il 21, la corretta risoluzione della prima domanda. Il 21 se è perfetta, il 18, il 19, il 20 se ci sono dei piccolissimi malfunzionamenti, altrimenti l'esame non è superato. E poi la seconda domanda è quella che contiene più gli argomenti di ricorsione, gli argomenti di simulazione, che sono quelli più algoritmici, che serve per aggiungere i voti maggiori del 21. Quindi la seconda domanda è quella che vi dà, diciamo, i 12 punti che servono per prendere i voti buoni. Questo è esattamente come prima, non abbiamo cambiato nulla. Per lo svolgimento del lavoro dovete utilizzare il vostro computer, questo è diverso, ovviamente non usiamo i computer del laboratorio, connesso in videochiamata per tutta la durata della prova. Quindi vi chiediamo di svolgere il lavoro mantenendo attiva la videochiamata dal vostro PC. E possiamo vedere cosa state facendo, vedere che in qualche modo siete concentrati sulla prova e non state facendo altro. Abbiamo valutato anche l'opzione di usare dei computer virtuali al live, però, come si diceva con qualcuno la volta scorsa, è un rischio in più che se qualcosa va storto con la connessione. Tra l'altro ho sentito ieri che ci sono degli studenti che hanno avuto dei problemi sulla tastiera, nel senso che i computer del live erano configurati con la tastiera italiana, se non sbaglio qualcuno aveva la tastiera americana, quindi non riuscivano a trovare i tasti. Quindi cerchiamo di eliminare il più possibile le possibili cause di problemi. Come in laboratorio è concesso l'utilizzo di documentazione e materiale ed è concesso l'accesso a internet, ad esclusione degli strumenti di comunicazione. Quindi voi non siete autorizzati a usare chat, mail, forum, cellulari, eccetera. Quindi non è un problema se avete bigliettini, se avete libri, questo è permesso, non è un problema se fate delle ricerche su Google, su Stack Overflow, questo è permesso, è un problema se invece cercate di comunicare tra di voi e non svolgere la prova autonomamente. Quindi tutte le applicazioni di comunicazione le chiudete prima dell'inizio della prova. Come facciamo a fare la cosiddetta video-sorveglianza? Vi chiederei, mentre vi racconto queste cose, di cercare di concentrarvi più, so che per molti di voi questa frase, che sto per dire, è superflua, però è giusto dirla. Cercare di concentrarvi più su come prepararmi, come svolgere l'esame, rispetto a non come faccio a copiare. Io vorrei, diciamo, possibilmente ragionare in modo maturo con voi, cercare di fare il gioco delle guardie ladri, che poi alla fine ci fa perdere energie e ci fa concentrare su come essere, diciamo così, più cattivo dell'altro e ci perdiamo poi d'occhio quello che è, ciò che stiamo cercando di imparare nel corso. Quindi noi cercheremo di trovare delle modalità relativamente semplici. La video-sorveglianza avverrà attraverso l'apertura di una chiamata Zoom, alla quale, scusate, mentre ci sono, correggo, gli studenti dovranno rimanere connessi per tutta la durata dell'esame. In funzione del numero di studenti iscritti saranno definiti più turni di esame, chiaramente ciascuno, con 20-25 studenti. Quindi che è la capacità, diciamo così chiara, videochiamata, che ci permette di vedere 20-25 persone insieme, e sorvegliato, ciascun turno, da un diverso docente. Quindi noi siamo tre docenti, faremo tre turni da, diciamo, 25 persone, 20 persone, 24, se troviamo i numeri giusti, che siano multipli, e ciascuno di noi osserva un gruppo di persone diverse. I compiti assegnati in diversi turni saranno diversi. Nel caso in cui nell'appello ci fossero più di 60-70 persone iscritte, cosa che è abbastanza probabile, normalmente nel primo appello ne avevamo di più, faremo due batch, diciamo così, un grosso blocco, diciamo, al mattino, in cui faremo questi tre turni, e un altro blocco al pomeriggio, in cui faremo altri tre turni. Cerchiamo, se riusciamo, con i tempi, a gestire i tempi, di rimanere all'interno della giornata. All'orario di inizio dell'esame verrà compiuto l'appello dei presenti, quindi dobbiamo chiamarli uno a uno. Ovviamente la divisione dei studenti in gruppi, dei turni d'esame, la facciamo noi, tendenzialmente ve la comunichiamo, la facciamo casualmente e ve la comunichiamo all'ultimo momento, in modo che non possiate, diciamo così, formare i sodalizi, diciamo, troppo anticipati. L'orario di inizio dell'esame verrà compiuto l'appello dei presenti, lo studente dovrà identificarsi mostrando in videocamera un documento, che sia il tesserino o una carta d'identità, e successivamente mostrando brevemente il proprio desktop. Quindi condiviamo un attimo il desktop, e noi scattiamo, facciamo così, una schermata del desktop, da confrontare poi con quelle successive, e poi si riprende, poi passiamo allo studente successivo. Da questo momento la videochiamata non dovrà più essere interrotta fino alla fine della prova. Quindi da quel momento state al computer tranquilli e calmi. Al termine dell'appello vi trasmettiamo il testo d'esame. Il testo d'esame tipicamente lo metteremo come un PDF all'interno di un progetto base, esattamente come facciamo per i laboratori. Cioè vi pubblichiamo un progetto su GitHub, voi vi scaricate questo progetto, dentro questo progetto avete sia il database che il testo d'esame. Molto probabilmente utilizzeremo uno strumento di GitHub che si chiama GitHub Classroom, che è uno strumento che semplifica un pochino l'attività di fare i fork dei progetti. Cioè praticamente cosa succede? Succede che noi pubblichiamo un testo d'esame che è un progetto, adesso ciascuno di voi nei laboratori si fa il proprio fork e lavora all'interno del proprio fork. Però per noi diventa un pochino difficile andare poi a seguire chi ha fatto il fork, a che livello ha fatto il commit, eccetera, eccetera. E quindi questo strumento GitHub Classroom è un strumento un pochino più gestito che nel momento in cui vi registrate fa lui automaticamente un fork nella vostra area e ci dà direttamente il diritto di vedere quel progetto e questo progetto viene creato in modo privato, cioè nel senso che noi possiamo vederlo ma voi non potete vedere i compiti di qualcun altro o cose di questo genere. Quindi è uno strumento, alla fine è GitHub, ma ci sono due videote in più che gestiscono l'operazione di fork e l'operazione di consegna e a noi permettono di avere la visione insieme di quelli che sono i compiti che sono stati fatti, che sono stati scaricati. Faremo sicuramente due o tre esercitazioni in cui useremo questo strumento prima dell'esame. Quindi noi adesso lo stiamo impostando, lo stiamo provando, sembra che funzioni relativamente bene per gli scopi che ci servono, che sono quelli di A, distribuire inizialmente il testo e B, consegnare il vostro programma, il vostro elaborato, in modo sicuro, in modo tranquillo. Essendo basato su GitHub, a parte il passaggio iniziale da fare su GitHub per fare il fork, è tutto lavorato tranquillamente dentro Eclipse, vi fate un commit, vi fate un push e avete consegnato l'esame. Ma eravamo rimasti all'inizio dell'esame, quindi vi diamo il testo che è dentro il progetto base. Se volete, potete stampare il testo. Quindi se avete in casa una stampante, vi diamo al massimo, nei primi cinque minuti, vi diamo tempo, un minuto, due, insomma, per anche allontanarvi dal computer se dovete alzarvi dal tavolo, andare in una stanza a fianco, eccetera, per stampare il testo. Quindi così potete anche lavorare su carta. Altrimenti ve lo leggete tranquillamente sullo schermo, come preferite. Ok? Quindi organizzatevi se avete la stampante in casa per poterlo fare. L'alturato della prova è di 120 minuti della pubblicazione del testo, quindi anche qua è identico rispetto a quello che avremmo fatto in laboratorio, due ore di lavoro. Durante la prova, gli studenti potranno porre domande agli docenti utilizzando la chat in modalità privata. Quindi nella chat, anziché scrivere il messaggio a tutti, scriverete solamente il messaggio al singolo docente. Dovremo riuscire, dovrebbe essere l'opzione in Zoom per disabilitare i messaggi tra di voi, in qualche modo. Che chiaramente non sono né graditi né permessi. E quindi potete fare domande sul testo. Non vi chiediamo di mantenere il microfono aperto perché altrimenti rischiamo di creare un rumore di fondo fastidioso per tutti. Quindi normalmente, appunto, rimaniamo in muto con la telecamera accesa. Se avete domande da fare, la fate nella chat e poi eventualmente, se ci sono dei chiarimenti da fare, li facciamo direttamente noi a tutti. Poi, a questo punto, noi stiamo osservando voi che lavorate, però in un certo senso non sappiamo cosa state facendo. Nel senso che sappiamo che siete davanti al computer, però non sappiamo cosa state facendo al computer. Io presumo che voi stiate lavorando con Eclipse, però non ne possiamo necessariamente essere sicuri. Quindi, questa è un'ipotesi. Durante la prova, in qualsiasi momento, i docenti potranno chiedere agli studenti di condividere il proprio schermo. Ok? Quindi, a campione, random, noi diremo, tizio, fammi vedere cosa è sullo schermo. In quel momento, voi dovete reagire istantaneamente. non andare nel panico, non chiudere le cose che non dovevate avere. Mi condividete lo schermo così com'era. Magari ci lavorate un attimo e poi dopo magari passiamo alla condivisione dello schermo di qualcun altro. Quindi questo, perché sappiate che in qualunque momento noi, così come in laboratorio, possiamo girare tra i banchi e guardare cosa state facendo e verificare che non state facendo cose che siamo così non permesse, la stessa cosa la vogliamo fare così. In realtà, stiamo anche valutando, ci sono dei programmini in giro che fanno già questa operazione in automatico, cioè programmini che vi chiederemmo di installare e questi faranno una screenshot del vostro schermo a intervalli tempo casuali, quindi non prevedibili, e questi screenshot poi alla fine li scaricano su un server da cui noi possiamo verificarlo. Questa secondo me sarebbe anche la soluzione, se riusciamo a farla funzionare e stiamo ancora testando, sarebbe la soluzione preferibile perché a quel punto non dobbiamo, voi sapete di essere diciamo così sotto continuo monitoraggio, ma noi non dobbiamo necessariamente disturbarvi durante la prova per poter vedere cosa state facendo. Per ogni caso voi organizzatevi per fare l'esame senza cercare di comunicare con strumenti più o meno visibili, più o meno leciti e basta essenzialmente sapendo che appunto noi possiamo venire a controllare. Quindi la condizione non deve essere immediata, quindi chiediamo a condizioni di schermo dovete fare entro un secondo o due subito. Ok, al di là di questo che è l'unico aspetto critico di tutto, l'elaborato dovrebbe essere svolto in eclipse partendo dal progetto base. Si suggerisce di fare i commit frequenti, ma questo sempre, e di testare il codice man mano che esso viene sviluppato. Ecco, qui non potendo fare la correzione insieme in laboratorio, queste sono frasi normali che io vi direi anche se stessimo facendo un qualunque tipo di progetto. Adesso è ancora più importante, cioè non arrivate cinque minuti prima del fine della prova avendo scritto tanto codice e non avendo mai provato una volta, perché se no siete sicuri che l'esame non riuscirete a passare, perché sicuramente ci saranno problemi piccoli o grandi, ma ci saranno di sicuro. E quindi veramente imparate, man mano che sviluppate, scrivete un pezzettino, una funzione, un metodo, lo prestiamo. Poi a questo punto aggiungo le funzionalità, testo queste altre e così via, vado avanti così. E fatevi commit perché se poi a un certo punto fate la cazzata, scusate il termine, sbagliate qualcosa, cancellate dei pezzi, avendo il commit precedente, no, commit anche locale, senza fare push, non mi interessa, potete tornare indietro. Ok? Al termine della prova, arriviamo alla consegna, due ore sono passate, lo studente dovrà consegnare l'elaborato attraverso GitHub entro due minuti al termine della prova. Quindi diciamo, quando il tempo è finito, avete tempo di salvare e fare push. Non facciamo come persone che in aula, quando devono consegnare, si inventano di tutto per finire di scrivere l'ultima frase, che tanto non sono quei 30 secondi in più che riuscite a rubacchiare e che vi cambiano la situazione. Quindi alla fine della prova, fate il vostro ultimo commit e salvate con il push il progetto su GitHub. I compiti non correttamente consegnati in tre termini saranno considerati come ritirati. Questa è ovviamente una frase che si può leggere in due modi, cioè se volete ritirarvi va benissimo, basta che non lo consegnate, oppure se non consegnate in tempo noi non ricorreggiamo il compito. È responsabilità dello studente garantire, sembra banale dirlo, che il codice consegnato parta correttamente. Ok? Quindi se avete consegnato qualche cosa, che quando noi proviamo a scaricarlo e fare run non parte da eccezioni non funziona, questo non è un problema nostro. Voi dire, ah sì, ma basta modificare un punto e virgola, basta spostare quello, capito, ma dovevi farlo prima della consegna. Ok? Su questo dobbiamo essere abbastanza rigidi perché altrimenti non riusciamo a gestire la cosa. Per facilitarvi questo, per evitare sorprese del tipo ma a me funzionava, eccetera, eccetera, io non posso crederti sulla parola che a te funzionava perché io lo fai sul mio computer e tu lo vedi sul tuo. Allora abbiamo inventato una cosa nuova invece che questo non c'era negli anni precedenti. Per facilitarvi l'autovalutazione gli studenti potranno valutare se ritirarsi oppure c'è la correzione e si procederà come segue. È una frase introduttiva che dice che nel testo d'esame vi inseriamo degli esempi del primo punto del programma. Cioè, finora nel testo d'esame era descritto cosa il programma doveva fare ma non c'era proprio l'esempietto del tipo se inserisci tre deve stamparti questa cosa. Allora, adesso lo faremo invece in modo che voi possiate già verificare mentre sviluppate il programma se su quegli esempi semplici che vi diamo ottenete lo stesso risultato. Perché a volte magari uno si dimentica di mettere in ordine i dati a volte uno stampa che ne so lì di numerico e non stampa il nome ci possono essere queste piccole in qualche modo incomprensioni o sfumature che nel come si dice nel nel testo d'esame rimangono un pochino ambigue e allora quando la correzione di persona tutto sommato sono dettagli su cui non interessa mentre invece qua vogliamo essere più precisi dobbiamo essere più precisi allora vi diamo degli esempi e ve li potete provare ciò significa che se al termine delle due ore cinque minuti prima di consegnare quando voi provate a inserire quei dati di esempio che vi abbiamo già messo sul testo e vi viene qualche cosa di diverso ci siamo capiti non vale la pena che consegnate a meno che non siano veramente le cose minime in cui voi siete veramente convinti che magari c'è un errorino piccolo da qualche parte ma ma non avete tempo di trovarlo allora vabbè lo potete consegnare a vostro rischio ovviamente cioè non sto dicendo che la consegna è automatica o è assolutamente determinata da quello però è un'autovalutazione che potete fare se non arrivate a quel punto a vedere quei risultati molto probabilmente il compito comunque non sarebbe sufficiente questo ve lo scriviamo già nel testo quindi durante le due ore avete già degli esempi da provare e sapete che risultato deve dare che era una delle domande frequenti che succedevano durante l'esame mi dicevate ma io ho messo questi dati questo risultato è giusto o no? te lo dico dopo invece adesso te lo dico prima perlomeno su alcuni esempi dopo la consegna dell'esame vi pubblichiamo quindi finite le due ore voi avete un attimo di paura andate a bervi un caffè andate a fare la pausa bagno eccetera ma nel frattempo vi pubblichiamo un altro uno o due esempi di nuovo diversi da quelli di prima che voi possiate provare ovviamente il programma vi è rimasto sul vostro computer non l'avete ancora buttato con quello della finestra Eclipse vi è rimasto sul vostro computer e lo potete provare con degli altri dati altri dati che vi diamo e di cui diamo anche il risultato questo per garantire che il programma non funzioni che non abbiate cablato in modo da funzionare proprio solo su quegli esempi lì ma che funzioni in generale anche su altri esempi nel caso in cui anche questi secondo test che appunto avviene sul programma che avete consegnato dopo la consegna non funzionino anche qui avete ancora la possibilità di ritirarvi quindi abbiamo dieci minuti circa di tempo alla fine della prova in cui potete un attimo riprendervi e verificare il programma su altri casi di esempio a questo punto in certo senso la prova è finita è consegnata quindi potete anche confrontarvi tra di voi questi sono i dieci minuti che normalmente nella prova fisica gli studenti uscivano tutti in laboratorio in corridoio uscivano dal laboratorio per andare in corridoio e lì vi lasciamo un po' di tempo sia per andare in bagno ma anche per parlare tra di voi e capire a questo punto poi vi chiederò passati questi dieci minuti chi intende confermare la consegna e chi invece intende ritirarsi ovviamente io tifo per voi che tutti confermino e tutti prendono un bel voto però sapendo che le cose non sempre vanno per il verso giusto questo esterisco dice semplicemente che se i dati di esempio non vi quadrano ma non vi quadrano magari solo per piccolezza estetica magari decidete di consegnare lo stesso sapete che ci sarà una penalizzazione speriamo che questa penalizzazione non porti dal 21 che è il voto massimo della prima parte sotto la sufficienza a questo punto al netto di chi decide di non consegnarli chi si ritira a metà di chi si è ritirato dopo speriamo che tutti i 20 25 del gruppo ci siano ancora tutti se no ce ne saranno sotto insieme a chi è rimasto faremo l'orale un orale per la verifica del proprio programma allora come funziona questo orale ciascuno studente sarà chiamato individualmente a condividere il proprio desktop e a mostrare il funzionamento del proprio programma quindi vi chiamiamo uno a uno facciamo un elenco quando è il vostro turno prendete sempre la videochiamata che è sempre rimasta accesa condividete lo schermo e ci fate vedere il programma che funziona eventualmente possiamo anche chiedervi attraverso il zoom lo si può fare di controllare il vostro computer quindi ci date il controllo sul vostro computer in modo che noi possiamo magari provare a usarlo lanciarlo eccetera eccetera ok aprire il vostro quindi alla fine della prova vi lasciate tranquillamente clips aperto col progetto lì ovviamente non dovete più modificare il progetto quindi ciò che vediamo ciò che farete vedere dovrà coincidere con quello che avete consegnato su github ma questo git ce lo fa vedere subito nel senso che se voi modificate ancora qualcosa nella storia di git ci dice che il codice che voi avete in quel momento sul computer è diverso rispetto a quello che avete consegnato e quindi ovviamente andremo a verificare che non abbiate fatto ulteriori modifiche nei file modificati semplicemente si vede anche solo dall'icona di eclipse che fa vedere che quel file è stato modificato rispetto all'ultimo commit e quindi siamo sicuri che stiamo verificando esattamente ciò che avevate consegnato due ore prima e quindi ne parliamo rispondiamo delle domande le domande non sono domande di teoria ma sono domande sulla verifica della conoscenza del funzionamento del proprio programma detto in altri termini mi racconti cosa fa il programma mi rispondi le domande che ti faccio sul programma che hai appena fatto dieci minuti prima mezz'ora prima un'ora prima e mi devi in qualche modo convincere che sai cosa ha fatto il tuo programma sai cosa hai fatto e quindi l'hai fatto tu quindi questa è la vera la verifica che fa sì che copiare non serva a nulla perché possiamo diciamo così assicurarvi che con l'esperienza che abbiamo ci accorgiamo rapidamente se uno non sa che cosa ha scritto non sa che cosa ha fatto se è copiato a caso da qualche cosa oppure qualcun altro gli ha mandato un pezzo di codice che è inscritto dentro già si vede spesso dai nomi delle variabili oppure semplicemente dal fatto che uno non sa orientarsi nel proprio codice allora a questo punto noi può essere antipatico però se non dimostrate di conoscere bene ciò che avete fatto qui non sono domande di teorie non vi chiedo ma qual è l'algoritmo qua cosa significa no vi faccio domande sul vostro codice sul vostro programma il vostro codice tra l'altro noi lo possiamo vedere perché è su github quindi lo possiamo esaminare con calma possiamo chiedere apri il file tal dei tali apri la classe fammi vedere cosa fa quindi non è una cosa non dovete studiare apposta per questo assolutamente semplicemente se avete fatto il programma vi viene gratis semplicemente una chiacchierata una verifica come quella che avviene normalmente in aula nel senso che apriamo il codice guardiamo insieme due cosette a seguito di questa verifica quindi vi diamo il voto della parte 1 dell'esercizio 1 l'ho chiamato voto provvisorio oppure vi diciamo no il compito non è sufficiente perché non arrivi al minimo che è richiesto per la parte 1 dopodiché questo è un voto provvisorio perché poi noi con calma nei giorni successivi calma neanche troppa comunque nei giorni successivi valutiamo l'elaborazione del suo complesso per dare il voto totale che tiene conto anche l'esercizio numero 2 per coloro spero siano pochissimi che non hanno proprio fatto neanche iniziato l'esercizio numero 2 allora questo voto provvisorio sapete che è già quello definitivo ok questo voto complessivo sicuramente sarà maggiore di quello provvisorio perché questo qua è il voto che mi ha preso dell'esercizio 1 poi ci valutiamo l'esercizio 2 e ovviamente la votazione sarà additiva e poi vi leggo testualmente questa frase finale che ho scritto che per me è la più importante di tutte nella definizione di queste regole d'esame i docenti hanno valutato più importante la collaborazione responsabile tra docenti e studenti nel contesto del patto formativo cioè io faccio la mia parte voi fate la vostra questo detto in termini banali ed hanno evitato i docenti di adottare modalità vessatorie o tecnicamente contorte nella modalità di svolgimento anche per evitare l'impatto di eventuali problemi di connessione o di altri problemi tecnici aggiungo io auspicchiamo un forte senso di responsabilità da parte di tutti gli studenti tra l'altro vista la natura progettuale della prova d'esame non saranno cioè ciascuno fa un progetto diverso e come sempre capita se ho dieci persone che hanno lo stesso progetto lo fanno in dieci modi diversi se ho cento persone lo fanno in cento modi diversi non saranno tollerate soluzioni eccessivamente simili che possono essere solo indice di comunicazione illecite se avete due programmi uguali vuol dire che in qualche modo avete comunicato quindi anche se io non me ne sono accorto sul momento me ne accorgo sicuramente del risultato magari non me ne accorgo durante l'orale perché avete comunicato diciamo così con il primo con l'ultimo quindi non ho in quel modo in quel momento tempo di accorgermene ma sicuramente quando andiamo a rivedere i progetti successivamente questo controllo di differenza lo andiamo a fare di sicuro ok quindi in questo caso se troviamo soluzioni di questo genere verranno annullate d'ufficio in modo inappellabile non stiamo neanche a discutere se due programmi sono uguali usano lo stesso codice i stessi metodi con i stessi nomi di variabili ma anche con nomi diversi ma si vede che sono tradotti uno dall'altro questi vengono annullati entrambi ok senza neanche stare a discutere quindi non credo sia un problema nel senso che perché intenzione di lavorare onestamente non c'è neanche da porsi di problema perché le probabilità che il codice che scrivi tu sia così simile a quello che ha scritto un altro se avete lavorato entrambi in modo onesto sono zero ve lo assicuro quindi non è un problema che ci dobbiamo porre però chiaramente è uno strumento che noi come docenti ci dobbiamo tenere a disposizione per poter evitare per poter mantenere la serietà dell'esame e quindi garantirvi che se vi diamo un voto quel voto sia effettivamente spendibile e nessuno mai possa dirvi e però te l'hanno regalato perché c'era il covid facciamo attenzione che questo giochino qua va a vostro danno se riusciamo se non riusciamo a mantenere tutti insieme come docenti la serietà delle lezioni noi stiamo facendo il possibile speriamo che venga bene e delle valutazioni perché poi è quello che poi vi giocate la vostra carriera basta questo finisco come dico questo lo sto facendo ve l'ho fatto vedere qua non non lo pubblico ancora perché magari qualche piccolo dettaglio soprattutto la parte di GitHub Classroom e i tempi eccetera la stiamo ancora toccando quindi una volta che lo pubblico cerco di pubblicarlo in modo definitivo e ufficiale però questo è un po' era per condividervi mi sembrava doveroso con il dovuto anticipo in modo che vi possiate preparare e sapere che cosa capita cosa capiterà adesso come sempre sto zitto ho già parlato fin troppo e vi lascio alle vostre domande ai vostri dubbi sia sull'esame che sui laboratori che sui argomenti che stiamo facendo per la prossima ora sono a vostra disposizione allora non capisco tanto la domanda ma aspetta un attimo che io ho fatto basta tu mi chiedi potrebbe essere più specifico riguardo all'uso di internet voi su internet potete usare tutto possibile usare tutti i siti di documentazione i motori di ricerca forum eccetera ciò che farete normalmente ok l'unica cosa che non si può fare è comunicare quindi usare magari se voi scrivete qualcosa su un forum ecco questo non va bene se voi vi scaricate qualcosa da un progetto che avete fatto voi o che avete fatto insieme dai vostri amici ma quel progetto esisteva già quindi potete acquisire informazione liberamente non potete comunicare con altri né condividere il testo tanto comunque il testo sarà diverso per i vari gruppi quindi ecco l'altra cosa che non ho detto scusate lo dico adesso normalmente il database su cui lavorare ve lo diciamo un paio di giorni prima normalmente quando si chiudono le prenotazioni e vi facciamo la composizione dei gruppi vi diciamo anche in quell'appello si lavorerà con quel database così potete già cominciare a familiarizzarvi invece invece il testo da fare sarà diverso quindi da questo punto di vista lavorate normalmente come lavorereste in laboratorio o come lavorereste a casa semplicemente l'unica cosa che non dovete comunicare con nessun essere vivente ok tranne il gatto che magari vi gira per casa però l'informazione che ci sono disponibili su internet sui libri sugli appunti le potete usare tutte Francesco mi chiede nel caso in cui non fossimo soddisfatti della votazione finale comprensibile anche della correzione del rischio 2 si potrà rifiutare il voto sì nel senso che ecco su quella parte lì non sono stato dettagliato perché in realtà non è cambiato nulla rispetto al passato noi pubblichiamo dopo qualche giorno quando riusciamo a correggere tutti pubblichiamo i voti normalmente uno sa già si aspetta già che cosa prenderà però pubblichiamo i voti complessivi compresa anche la parte 2 vi diamo poi qualche giorno di tempo dico qualche giorno perché i due appelli come sempre sono avvicinati a 15 giorni di distanza quindi il tempo è sempre molto molto stretto e io voglio chiudere i voti del primo appello prima del secondo appello ovviamente non lasciare che le cose si accavallino però avete qualche giorno di tempo in cui se avete dei chiarimenti dei dubbi ce li potete fare ce li potete chiedere tra l'altro diciamo rispetto al solito è meglio perché sia noi che voi abbiamo attraverso GitHub il progetto da poter commentare da poter vedere insieme ok e quindi vi possiamo facilmente chiarire le motivazioni gli errori che avete fatto eccetera eccetera chiaramente in modo sintetico e poi avete la possibilità di accettare oppure rifiutare quindi noi tipicamente facciamo così pubblichiamo i voti e io vi dico se non mi dite nulla questo voto viene registrato che ne so tra quattro giorni voi in quei giorni intermedie avete la possibilità di decidere se volete rifiutarlo mandate una mail per dire rifiuto il voto se invece avete bisogno di chiarimenti anche lì ci contattate e chiedete chiarimenti e poi chi di noi avrà corretto quell'esercizio facciamo così vi contatta e cerca di darvi chiarimenti che vi serve chiarimenti che possono essere una chiacchierata o possono essere a volte anche magari vi commentiamo il codice dove c'erano i problemi dobbiamo vedere se con lo strumento di commento di GitHub viene bene oppure no ma questi sono dettagli ma di sicuro voi potete sia capire gli errori che avete fatto sia decidere di accettare oppure no il voto allora un'altra domanda di Matteo che copio qua quando trattiamo grafi saranno sempre dimensioni non gestibili con l'approccio più pesante doppio ciclo for o per creare arti oppure potrebbero capitare casi più ridotti nel secondo caso un errore implementare il doppio ciclo sapendo che comunque è meno efficiente allora mettiamoci d'accordo su una cosa voi avete una specifica di un problema da risolvere ok quindi la cosa importante è che voi risolviate il problema se usate un approccio che porta alla soluzione di questo problema va bene non vi chiediamo di trovare l'approccio che asintoticamente sia sempre migliore ok un approccio che risolva questo problema quindi nel caso in cui magari il grafo sia piccolo e allora l'approccio è più banale più ovvio più semplice meno evoluto funziona senza grossi rallentamenti e vi sentite più sicuri a fare quello va bene non è di per sé un problema è chiaro che se per la costruzione del grafo ci metto 10 minuti diventa molto difficile molto difficile anche solo il riuscire a valutare l'esercizio ma per voi stessi mentre lo state sviluppando come fate a testare se in due ore riuscite a costruire tre volte quel grafo e non riuscite a fare un debugging che valga la pena quindi in quel caso magari siete voi stessi che dovete dire devo trovare una soluzione più efficiente quindi il metro di valutazione dell'esame per il primo punto per il primo punto non è sull'efficienza ma è sulla funzionalità deve fare ciò che è stato richiesto ovviamente nei limiti di un'efficienza decente quindi deve rispondere nell'arco di non posso dire un numero perché dipende dagli esercizi ma qualche secondo al massimo un minuto o due per i problemi più complessi ma non deve prendere quantità di tempo spropositate poi al netto di questo quindi se funziona e risponde in tempi decenti ragionevoli potete usare l'approccio che volete mentre invece la valutazione del punto 2 che invece è un punto più algoritmico andiamo a valutare anche le scelte che avete fatto quindi non è solamente funziona o non funziona perché in due ore molto probabilmente pochissimi riescono a farlo funzionare correttamente senza nessun baco senza gestione di tutti i casi particolari ma noi nel punto 2 andiamo proprio a valutare a studiarci il codice come se fosse un esame scritto studiare cosa avete fatto capire il ragionamento che avete fatto le scelte che avete fatto poi magari può anche darsi che non funzioni e prendete un ottimo voto perché vediamo che dentro c'è una buona progettazione avete dimenticato un dettaglio che vabbè chiaramente in due ore di tempo non si può far tutto oppure un programma che magari sempre nel punto 2 che ti dà il risultato giusto ma avete fatto le scelte progettuali talmente sbagliate o avete dimenticato di considerare dei casi che a questo punto vi venite penalizzati per quello quindi nel punto 2 invece entriamo veramente nelle scelte progettuali ma nel punto 1 invece no questo non vuol dire ovviamente ma come scrive Matteo si capisce che l'ha capito che dovete studiarvi solamente l'approccio più semplice perché ovviamente ci sono dei casi in cui quell'approccio non funziona noi ci stiamo costruendo la nostra cassetta degli attrezzi dobbiamo avere tanti attrezzi diversi per poter usare quelli giusti nel momento giusto questa è un pochino la filosofia grazie altri dubbi? Paolo mi chiede se rispetto a quello che ho visto in altri anni l'esame sarà particolarmente estrangente in termini di tempistiche nel senso che già di altri anni l'esame durava due ore e le due ore servono tutte in questo senso sicuramente sì nel senso che per svolgere tutto il compito i due esercizi punto 1 e punto 2 in due ore bisogna effettivamente diciamo così impegnarsi o correre in un certo senso quindi due ore ce la si fa a completare sicuramente allora noi calcoliamo che punto 1 possa portare via mezz'ora tra quarti d'ora per uno studente che sia abbastanza diciamo così sveglio abbia seguito il corso sappia fare le cose il punto 2 pur essendo algoritmicamente più complesso di solito dal punto di vista del codice più breve perché comunque si basa già sulle strutture dati che ti sei costruito nel punto 1 quindi un'altra mezz'ora tra quarti d'ora ti servono per sviluppare il punto 2 a questo aggiungi il tempo che ti serve per leggere capire il testo e per fare un po' di testo un po' di verifiche e le due ore sono finite quindi il tempo è come si dice giusto per chi sappia muoversi in modo così agile e snello all'interno della materia della programmazione poi purtroppo vedo persone che invece impiegano le due ore scusate solo un secondo i vari corrieri arrivano dicevamo invece appunto vedo purtroppo persone che faticano nelle due ore a riuscire a completare il punto 1 però di sicuro non c'è non c'è tempo da perdere da questo punto di vista io spero che essendo a casa tranquilli con il vostro computer in realtà il livello di stress possa essere anche leggermente inferiore rispetto a quello che trovate in laboratorio la gestione dello spazio dell'ambiente siete sul vostro computer quindi non ci sono i problemi del ah quel computer lì al laboratorio all'app è un pochino più lento l'altro c'è il mouse che non funziona eccetera eccetera e quindi siete in un ambiente che sicuramente è più confortevole ah non riesco a trovare non mi ricordo qual è la password del database eccetera eccetera però i tempi sono abbastanza credo giusti come dici tu sulla base dell'esperienza allora veniamo alla domanda di Federica che invece è una domanda finalmente sui grafi non più sull'esame non capisco che preoccupazioni ci siano proprio per questo ho pensato di cominciare a parlarne per tempo Federica mi dice quando creiamo un grafo semplice orientato come mai aggiungendo un arco tra 1 e 2 un arco tra 2 e 1 vengono stampati entrambi essendo il grafo semplice no perché è orientato se il grafo è orientato allora il grafo 1 e 2 è diverso dal grafo 2 e 1 sono due archi diversi un grafo un multigrafo vorrebbe dire che c'è un arco 1 e 2 e poi c'è un altro arco un altro arco sempre tra 1 e 2 nella stessa direzione ok quindi un grafo orientato l'arco da 1 a 2 e l'arco da 2 a 1 sono due grafi diversi e quindi possono esistere entrambi poi si è solo uno poi si è solo l'altro di due ok ma il grafo è comunque semplice un grafo non è più semplice quando esistono più archi uguali dove con arco intendo arco orientato o arco non orientato ecco questa è un pochino una sfumatura della definizione su cui non avevamo colto non avevamo puntato l'attenzione quindi anzi il motivo per cui abbiamo degli archi dei grafi orientati è proprio per poter avere gestire separatamente le due direzioni quindi è giusto che vengano stampati entrambi perché sono indipendenti in un grafo semplice se io cercassi se ho già l'arco 1 e 2 cerco di aggiungere di nuovo l'arco 1 e 2 non fa nulla non lo aggiunge in un multigrafo invece ne aggiungerebbe un secondo chiaramente aggiungere un secondo così non serve un granché se di solito però in questo caso questi archi sono pesati con un certo peso diverso magari ho più archi diversi con più diversi o immaginiamo la casa della metropolitana di Parigi sono archi che sono relativi a linee diverse quindi nell'oggetto arco non userò il default edge o il default weighted edge ma farò una sottoclasse dell'arco che all'interno si ricorda la linea a cui apparteneva quell'arco e allora a questo punto avremo archi diversi che collegano gli stessi vertici nello stesso ordine sempre da 1 e 2 ma dentro un'informazione che ci permette di distinguerli cioè un multigrafo senza che gli archi siano possibili distinguerli diciamo così serve abbastanza poco però per rispondere alla domanda puntualmente l'1 e il 2 e il 2 e 1 sono due archi diversi in un grafo orientato sono lo stesso grafo sono lo stesso arco in un grafo non orientato quindi a seconda del fatto che il grafo sia orientato o meno l'uguaglianza o meno degli archi cambia ok poi abbiamo Lorenzo invece che ci parla di SQL e ci chiede imponendo una select la condizione distinct adesso agisce su tutti i campi definiti per esempio scrivendo set distinct il risultato che ottengo sono delle coppie distinte di id 1 o id 2 sì perché il distinct lavora a livello di istruzione select e quindi elimina distinct elimina le righe duplicate in qualche modo possiamo leggerlo così alcuni preferiscono usare una parola chiave che si chiama distinct row che forse è più esplicita quindi seleziona le righe distinte tra di loro ma in realtà scrivendolo come select distinct funziona esattamente nel stesso modo quindi il distinct si applica alla select e non si applica a id 1 non si applica solamente al primo non avrebbe senso dire tengo le prime distinte ma l'altro l'id 2 invece si può ripetere il fatto che esistano due parole chiave diverse perché distinct si può usare anche in altri contesti come ad esempio count distinct tra parentesi id 1 allora a questo punto io conto il numero di valori distinti di id 1 non di id 1 e di 2 insieme però usato quindi nell'account la parola chiave distinct è relativo al valore della singola colonna nell'account nel sum insomma negli operatori di aggregazione mentre usato nella select si applica all'intera riga poi ricordiamoci cosa fa il database lui fa la query fa le join applica le condizioni di where quindi filtra le righe e poi nella select seleziona le colonne seleziona le colonne e dopo che seleziona le colonne eventualmente se c'è la distinct elimina i duplicati e me la restituisce poi eventualmente se ci fosse l'order by le ordina il brutto di SQL che esegue l'operazione in un ordine logico perché l'ordine fisico ci pensa a lui ma in un ordine logico che è diverso dall'ordine con cui scriviamo quindi select è la prima cosa che scriviamo ma in realtà è l'ultima che viene fatta e quindi agisce già sul risultato fatto a righe quindi da questo punto di vista è sufficiente scrivere distinct per eliminare coppie duplicate come si può ciclare sugli archi del grafo per stamparli allora sì allora per stampare ciclare sugli archi del grafo io posso prendere l'edge set ad esempio graph punto edge set mi da un set che contiene tutti gli archi allora su questo arco lo posso questo è un insieme è un set e quindi posso tranquillamente ciclare quindi default edge e due punti graph punto edge set e quindi per ogni iterat di fault cosa ho scritto qua di fault edge quindi per ogni arco del grafo per ogni iterazione di questo ciclo avrò in mano un oggetto e diverso dopodiché per l'oggetto arco dovrò per poterlo stampare non posso stamparlo direttamente dovrò perché è un oggetto che non ha informazione utile dovrò stampare tipicamente il vertice di partenza e il vertice d'arrivo e quindi dovrò stampare edge punto get aspetta che non mi ricordo si chiama get source vertex o qualcosa del genere jcrafty però lo vado a vedere così siamo sicuri source vertex eccolo qua ecco qua qui abbiamo il metodo edge set di cui vi ho parlato quindi da tutti gli archi del grafo e per ogni arco eccolo qua get edge source di e quindi è un metodo attenzione che non è un metodo di arco ma è un metodo di grafo questo l'oggetto arco di fatto non ha metodi che ci possono essere utili il default edge non ha dei metodi richiamabili e quindi noi dovremmo stampare graph punto get edge source di e quindi il nostro arco va da questo a graph quindi stamperemo non so punto list out print line stampiamo che va l'arco che va da aperta tonda edge source a edge target quindi lo stesso lo stesso metodo che c'era edge source c'è un edge target qua quindi dato l'edge mi dà il vertice e il vertice essendo normalmente un nostro oggetto avrà il il to string che permette di stampare qualcosa di leggibile e poi ci chiudo la parentesi così quindi ciclare sugli archi è facile estrarre informazioni dagli archi è un pochino più complicato perché l'oggetto arco non ha dei metodi e quindi devo sempre chiedere al grafo senti caro grafo dimmi qualche cosa su quell'arco la stessa cosa se l'hai andato a vedere vale anche per il peso il edge weight è voglio sapere quanto pesa un arco pesato non lo chiedo all'arco ma lo chiedo al grafo è una cosa un po' strana ma proprio perché questi archi sono oggetti che vengono gestiti internamente e quindi non hanno dei metodi direttamente utilizzabili per l'utente attenzione che source e target hanno un significato reale nel caso di un arco di un grafo orientato perché da dove inizia è da dove termina la freccia nel caso invece di un grafo non orientato sono a caso di fatto dipende da come l'ho inserito per la prima volta quindi facciamo attenzione che l'arco che ci immaginiamo da A a B magari memorizzato come source A e target B perché tanto se il grafo non è orientato è equivalente per lui è uguale quindi quando andiamo a considerare gli archi uno per volta nel caso del grafo orientato va bene nel caso di un grafo non orientato dobbiamo sempre chiedersi attenzione è messo così o è messo così e molto spesso dobbiamo fare due casi possibili ad esempio se stiamo considerando magari un cammino fatto di diversi veri archi noi immaginiamo che il cammino vada da A a B da B a C da C a D eccetera va bene nel caso in cui il grafo non sia orientato può darsi che io ho il primo arco che si chiama A B e il secondo arco si chiama C B perché e non B C perché è stato inserito così quindi però è un dettaglio in più di cui bisogna fare attenzione quando facciamo questo tipo di operazione su un grafo non orientato e a questo ci aiuta il metodo della classe di utilità graphs che si chiamava proprio get opposite vertex già che ci siamo lo citiamo graphs eccolo qua opposite eccolo qua questo metodo di cui parlavo get opposite vertex che dato un grafo chiaramente perché lo devo passare come primo parametro nella classe graphs un arco e un vertice che può essere il source o il target di quel vertice mi da l'opposite quello dall'altro lato quindi in questo modo io riesco a orientare l'arco come voglio io ti do un vertice tu dimmi qual è quello dell'altra parte indipendentemente dal fatto che se io ti do il source dammi il target se io ti do il target dammi il source quindi se vogliamo lavorare con gli archi è un problema che capita solamente nei grafi non orientati però almeno sappiamo come gestirlo se non c'è null'altro di utile sui vertici allora Elisa mi chiede tornando all'esame per quanto riguarda eventuali calli di connessione blocchi del pc durante il riloggiamento come funziona funziona che speriamo che non capiti se la cosa è di breve durata e di breve gravità andiamo avanti così ecco questo i blocchi del pc eccetera per fortuna lavorando in locale su eclipse non avete da questo punto di vista molti problemi nel senso che se dovesse anche riavviarsi il pc spero di no cioè togliete le schifezze dai vostri computer in modo da essere sicuri che lavori correttamente ma anche dovreste riavviarlo comunque state salvando state lavorando localmente sul vostro pc quindi la connessione serve solamente per la videocamera potete provare magari anche in generale fate delle prove a ridurre la risoluzione con cui la videocamera trasmette quindi cercando di consumare meno banda ma di solito diciamo i programmi di videoconferenza funzionano abbastanza bene se vedono che c'è poca banda già loro ci pensano a ridurla a ridurre diciamo così la qualità del video però cercando di mantenere la connessione se proprio dovesse capitare che la connessione si interrompe per due minuti va bene voi sapete che a livello di Politecnico hanno definito una soglia che appare a 10 minuti che dice che se una diciamo così una connessione viene a mancare per più di 10 minuti l'esame si considera annullato allora 10 minuti è un tempo molto lungo quindi spero che non capiterà mai a nessuno di dover andare a discutere se è stato scollegato 9 minuti 58 oppure 10.03 ecco se sono cose brevi di pochi secondi un paio di minuti il tempo di riavviare il pc perché si è impallato eccetera va bene se si blocca qualcosa prima di riavviare prima di scollegare magari ce lo dite guardi un problema col pc lo riavvio è un po' come quando uno esca un attimo per andare in bagno quindi cerchiamo uno speriamo che non capiti perché è chiaramente un fattore d'ansia in più durante l'esame e due se capita cerchiamo di tollerarlo da questo punto di vista tanto come vi dicevo per noi il vero test è quando apriamo il vostro codice parliamo con voi e ci dite cosa avete fatto allora quello vale più che non 12.000 controlli sui secondi su cui è rimasta scollegata grazie grazie Altri dubbi? Io volevo anche anticiparvi le date degli esami, ma non posso perché appunto una delle due dobbiamo spostare, quindi inutile che vi dica una data che poi comincia a circolare e non è definitiva. Comunque dovrebbe essere indicativamente verso la fine di giugno, il primo appello. Non mi so dire ancora esattamente 29, 30, 28, primo luglio, eccetera, ma intorno a quei giorni lì. Nelle ultime settimane del corso, mi chiede Jacopo, ah poi c'è anche Federico, scusa non l'ho visto, ti rispondo dopo. Chiede, nelle ultime settimane del corso verranno svolte soluzioni complete dei temi di esami passati? Sì, assolutamente. Cioè l'ultime, adesso vediamo se ce la facciamo, l'intenzione è fare in modo che gli ultimi due laboratori siano due simulazioni d'esame con dei temi di esami nuovi. Quindi non temi di esami di anni passati, ma temi nuovi che magari lavorano con dei dataset nuovi mai visti prima, che poi saranno gli stessi dataset che usiamo all'esame, che useremo negli esami veri e propri. In modo che, almeno per due volte, se ci riusciamo due, rischiamo di essere una, ma cerchiamo di farne due, laboratori, lavoriate in modalità diversa. Quindi non è più il laboratorio assistito, classico, in cui potete far domande, ma è il laboratorio esame. Chiaramente non ci sarà la videoserveglianza, perché non serve a nulla, ci sarà l'assistenza, nel senso che se volete potete far domande, ma tendenzialmente dovreste cercare di non farle e cercare di svolgere l'esercizio come se fosse all'esame. Quindi il fatto che il laboratorio duri tre ore va giusto bene, perché potete simulare le due ore d'esame, vedere a che punto arrivereste, e lo useremo anche per testare bene il meccanismo di consegna dei testi e di consegna degli elaborati alla fine. Quindi gli ultimi laboratori sono i più importanti, perché non ci sarà nessuna differenza, né in termini di difficoltà, né in termini di meccanismo, tra gli ultimi laboratori e l'esame vero e proprio. Quindi mi raccomando, cercate di sfruttarli. La domanda di Federico invece era, è possibile passare ad un metodo, una classe, e far sì che faccia due cose a seconda della classe che gli ho passato? Puoi passare a un metodo, ad un oggetto, e questo oggetto può appartenere a una classe oppure un'altra, e magari queste due classi sono sotto classe di una classe generale, e implementano in modo diverso i vari metodi. Così è come si ragiona ad oggetti. Quindi uno potrebbe avere un metodo che, diciamo così, stampa dei dati, ad esempio. Stampa dati, a cui gli passo un oggetto, una lista di dati, una lista, e poi uno stampatore. Un oggetto stampatore che sa come stampare, per dire, stampatore S. Allora, se ho colto l'esempio, tu vuoi dire, ma io di stampatori ne ho due diversi, uno che mi stampa, che ne so, in ordine di data, l'altro che mi stampa invece solamente in dettaglio, qualcosa di questo genere. Allora, come faccio a far sì che lo stesso metodo di una classe faccia cose diverse, a seconda dell'oggetto che gli passo? Allora, quello che farò, tra definire una classe, potrebbe essere una classe stampatore, che definisce un metodo, che ne so, void stampa, dato, stampa, che riceve un dato, per esempio. E basta. Questo potrebbe essere un metodo già implementato, oppure potrebbe essere un metodo astratto. Cioè vuol dire, dichiaro che c'è, ma io non implemento, quindi ci penseranno le mie sottoclassi ad implementarlo. E quindi avrò poi stampatore, potrò definire altre classi, stampatore per data, che ne so, extends, stampatore. Questa classe ovviamente dovrà definire, anche lei, farlo override, anzi, nel clip ci mette la notazione override, per dire che sto ridefinendo un metodo che c'era già una superclasse, e questo qua farà un certo tipo di operazione. E poi avrò un'altra classe, non per data, diciamo con la data. E poi un'altra classe che si comporta, che è la stessa signature, stesso metodo, ma invece con dettagli. Allora a questo punto io posso creare un'istanza di uno stampatore, oppure dell'altro, e gli passo l'istanza dell'oggetto a questo metodo stampa dati, che può ricevere un oggetto stampatore, oppure una qualunque sulla sottoclasse. E quando qui dentro, dentro questo metodo, userò il metodo s.stampa, di un certo dato, questo metodo stampa sarà il metodo di stampatore, oppure quello di stampatore con dato, stampatore con dettagli, a seconda dell'istanza che gli ho passato. Quindi questo è un altro esempio di ciò che si fa quando definisco le cose con l'interfaccia e l'implemento con gli oggetti. Questa classe può essere, come dicevo, una classe che ha un metodo astratto, oppure potrebbe anche essere un'interfaccia. Che a questo punto dichiara, l'interfaccia che dichiara di avere questo metodo. Dipende se quella classe deve fare altre cose oppure no. Se solo dichiarare che io ho un metodo, è meglio che sia un'interfaccia. Se invece questa classe, classe avrà altri metodi, oppure ha dei dati che vogliamo che vengano ereditati, la dichiaro come classe. Ovvio che se questa dichiara come interfaccia, qui anziché extends, devo scrivere implements. Questo è il modo di, se ho capito appunto cosa volevi fare dalla domanda, è il modo normale di ottenere un certo risultato. Quindi non è, ho diverse classi, ciascuna delle quali fa cose diverse, l'importante è che queste classi siano tutte sottoclassi di una stessa classe madre oppure implementi tutta la stessa interfaccia e il metodo che ha bisogno di usarle fa riferimento alla superclasse oppure fa riferimento all'interfaccia. Allora a questo punto, l'importante è che se il metodo si chiama nel stesso modo, verrà chiamato il metodo giusto. E chi decide qual è il metodo usare, ovviamente, è chi chiama la stampa dati. Ecco, da qualche altra parte, nel main, ci sarà qualcuno che fa oggetto, quello che è, non so, appunto stampa dati, a cui passerò la mia lista di elementi e poi un bel new stampatore con dettagli. E allora qui ti sto passando l'oggetto specifico. Allora, vedo ancora una domanda di Marco che mi chiede, la metto di qua, saprei che consigliere alcune fonti siti che permettono di fare un buon ripasso di SQL? Ho notato che alcune volte se avessi fatto query un po' più furbi avrei risparmiato diverso tempo nella scrittura del codice. Ti saprei dire i temi d'esame nostri, ad esempio, che forse sono una buona palestra per il tipo di query che facciamo noi. Il problema è che ci sono dei corsi di SQL che tendono o a essere molto diciamo così, sistematici sulle query semplici di un certo tipo oppure molto, molto approfonditi. Forse vi siete resi conto che il tipo di interrogazione che avevate fatto, avete svolto nell'esame di basi dati era molto più complicato di quello che facciamo adesso. Forse era più complicato di tutto era capire cosa volevano, capire il testo, perché di solito scrivere qualcosa in italiano è totalmente contorto. Però poi erano qui le anni date anche lunghe, eccetera, eccetera. Mentre qua, insomma, facciamo quelle un pochino più semplici, come sempre una serie, magari un paio di join in catena. La differenza è che non partiamo da una specifica così dettagliata di ciò che deve fare la query, ma la specifica ce la dobbiamo inventare noi. Quindi questo è ammettata la progettazione e la programmazione. Cioè capisco bene quali sono le informazioni che posso tirar fuori e capendo che quell'informazione mi può servire la tiro fuori in un certo modo. che non è la stessa cosa di dire mi danno un requisito ben preciso e devo essere bravo con la SQL a implementarlo perché so già esattamente cosa deve venire fuori. Invece qua cosa deve venire fuori lo decido io. Quella corona mi serve o no? Sì o no? Devo fare una ragione con un'altra tabella o no? Lo decido io. Perché magari quel dato mi serve oppure quel dato non mi serve. Quindi quello che come corsi non saprei cosa indicarti. Come esercizi per esercitarsi quello che posso consigliarvi è prendetevi i temi d'esame guardate il database e magari provate a pensare al primo esercizio senza implementare tutto l'esercizio. Ma solamente il primo punto dove vi dice costruire il grafo che abbia certe caratteristiche. Allora cominciate magari a fare le query che secondo voi vi servono per restare a quel tipo di dati. Dove a questo punto però di nuovo questa è una costante non solo di questo corso ma del mondo reale non c'è una soluzione giusta possibile. Allora uno dice vabbè estraggo i dati in questo modo un altro dice estraggo i dati in modo diverso ma lavorerò un po' di più nel codice ma me lo trovo meglio. Questo diciamo è il consiglio che potrei darvi. Altre fonti che siano più adeguate al momento ci sono mi vengono a mente dei libri ma sono più sulle prestazioni sulle performance di query con grandi grandi molli di dati ottimizzazioni di database ma secondo me sono un po' fuori tema rispetto a quello che lavorare sugli indici rispetto a quello che serve a noi. Però è una buona idea nel senso che magari quello che potresti fare se trovi dei casi particolari o dei casi potresti porlo come come idea come domanda e ne possiamo poi discutere magari nelle volte successive o fare qualche esercizio mirato non abbiamo mai fatto esercizi è difficile fare esercizio sulla query slegato dal programma perché i due si compensano però magari qualche ragionamento in più sul fatto che questo si poteva risolvere in un modo migliore lo possiamo fare molto volentieri prendendo ad esempio qualche esercizio precedente i laboratori da adesso in avanti magari oppure i temi di esame precedenti sono secondo me un buon bacino da cui prendere problemi diversi. Noterete che alcuni database sono molto complicati molte tabelle altri database sono molto semplici però magari la query è complicata anche sul database semplice quindi il numero di tabelle non è essenzialmente indicativo del tipo di operazione da fare però mi sembra una buona idea non ci avevo mai pensato se vi emergono alcuni casi dei dubbi in cui dite ma questa cosa qua l'ho fatta però non mi comincia tanto lo possiamo sicuramente riprendere. la cosa importante che è scritto è questo avrei risparmiato tempo questa è la vera metrica a cui dovete puntare riuscire a risolvere il problema impelagandovi il meno possibile cercando di risparmiare tempo quindi non cercate la soluzione migliore ma la soluzione in cui in meno tempo riuscite ad avere qualcosa di funzionante correttamente funzionante o che funziona è una parola molto importante ha un significato funziona vuol dire funziona davvero ogni tanto sembra che funzioni quindi la la funzione da ottimizzare per voi mentre sviluppate è il vostro tempo e ritorniamo al discorso delle due ore dell'esame usiamo le librerie usiamo le query usiamo le collection in modo che meno codici scriviamo meno errori possiamo fare e meno tempo perdiamo poi non sempre si riesce a un certo punto il codice bisogna scriverlo però prima di scrivere pensiamo in modo di cercare darci come obiettivo di cercare sempre una strada migliore grazie a tutti Altre richieste? È arrivata l'ora in cui il profumo della matriciana ha la meglio sui database e sulla ricorsione, vedo. Federico ha indovinato il suo pranzo, benissimo, offri per tutti la prossima volta, invece noi qua ce la dobbiamo inventare ancora. Quindi va bene, allora direi che se non ci sono altre richieste io vi proporrei di chiudere appunto dieci minuti prima dell'una. Comunicate anche magari ai vostri compagni che abbiamo cominciato a discutere delle modalità d'esame e così possono guardarsi la parte iniziale della lezione e come sempre se avete delle osservazioni, dei feedback, delle idee, delle cose che vi vengono in mente, soprattutto in mente della regola d'esame, perché poi queste le dobbiamo fissare, non le cambiamo più, ce le fate sapere lavorando sul gruppo Telegram come al solito, oppure discutendo domani mattina di nuovo i dati in laboratorio, quindi è anche un altro ambito in cui si possono discutere queste cose, anche se è meglio ovviamente chiudere, accantonare il discorso esame dicendo che si fa così e adesso concentriamoci sugli argomenti, perché purtroppo mi sto rendendo conto che in molti corsi si sta perdendo quasi più tempo a discutere dell'esame in termini di modalità che non di esame in termini di contenuti, quindi vorrei, spero che non incappiamo qua. E non, ve lo dico così, tanto siamo in amicizia, non va a finire su internet questa cosa, non fatemi pentire del fatto che abbiamo deciso di non usare Respondus o cose più invasive, perché lo faccio come dicevo, come ho scritto prima, cerchiamo di fidarci reciprocamente, quindi io non faccio bastardate, voi cercate di non copiarle, così riusciamo tranquillamente a passare l'esame tutti bene, ok? Va bene, con questa frase che non avrei dovuto dire, ma è quello che in realtà penso, se non c'è altro ci salutiamo e ci rivediamo la settimana prossima, come al solito, al martedì. Va bene, allora saluti a tutti e buon appetito! Grazie. 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 Grazie.